Salve, sono Marco Fedi, amministratore delegato del COSIT di Melbourne. Desidero a nome del Consiglio d'amministrazione del COSIT e a nome di tutto il personale che lavora ogni giorno per la nostra comunità farvi migliori auguri per Natale 2022 e anche per l'anno nuovo, l'anno 2023, che ci troverà di nuovo impegnati ad assistere la nostra comunità. Lo facciamo ogni giorno con i servizi agli anziani, lo facciamo ogni giorno con la formazione linguistica e culturale, lo facciamo ogni giorno documentando la storia dell'emigrazione della nostra comunità attraverso il Museo Italiano qui a Calton e attraverso la Società Storica Italiana. Ecco, vogliamo continuare nel nuovo anno a impegnarci con voi per assistere al meglio la nostra comunità, farlo migliorando i nostri servizi, come è il nostro dovere fare, e anche documentando sempre di più una storia che è ricca di passione, di impegno civile e che è ricca anche di tante storie che stiamo cercando di raccontare. Grazie a tutti voi per il vostro lavoro e per il vostro impegno di ogni giorno.